blu e rosso a metà cura non riusci a più a girare perchè lui mi tira la voce giù andiamo minchia qua mi sono strizzato eh dobbiamo salire da qua aiaiai per Cs a ben delle delle le ve il tiro es che sì Grazie a tutti. 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 Se io entro in mezzo, non ce la faccio a farla come l'ha fatta lui, non c'ho più l'età, anzi, ti dirò che vado lì, la giro e esco fuori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove l'hai fatto. Grazie a tutti.